Quasi 26.000 imprese dei cosiddetti mestieri di un tempo, calzolai, sarti, falegnami, panettieri, ma anche e soprattutto allevatori e agricoltori. Secondo un'indagine portata avanti dalla Camera di Commercio di Milano, la Capitanata è in vetta alla lista dei lavori di un tempo che mantengono alta l'economia del territorio. Agricoltori e allevatori sono la forza trainante degli antichi mestieri, in realtà due categorie che nel resto d'Italia si sta cercando di risollevare, ma che in provincia di Foggia non sono mai morti. In Capitanata ben quasi 25.000 imprese appartengono al comparto agricolo e dell'allevamento, seguono poi le attività alimentari, incluso le panetterie, poi le lavanderie, ma anche i venditori ambulanti del commercio dei fiori, del pesce, latticini o tessuti. Mentre nel nord Italia i grandi marchi lamentano l'assenza di sarti, in Capitanata è ancora molto attivo il comparto della sartoria, che oltre a perfezionare vestiti, confezionano anche abiti su misura. Così come per i calzolai e per gli orologiai, che attraggono sempre più giovani sia nella formazione di quest'arte che alla stessa mano d'opera. Tra le aziende attive in Capitanata si registrano anche la falegnameria, ormai diventati specializzati nell'assemblamento di mobili su misura, mentre risulta in provincia di Foggia solo un'attività incentrata sul lavoro del vetro a mano e a soffio artistico. Non si può dimenticare il settore delle pulizie, che richiamano alla mano d'opera giovani, anziani, italiani e stranieri. A questi dati della Camera di Commercio di Milano sono strettamente legati i numeri dell'impiego che, tra i cosiddetti lavori di un tempo, danno ancora lavoro ad un milione di persone.